Ciao ragazzi, buongiorno! Buongiorno, faccio questo mini video per darvi un bellissimo Ambo che tra l'altro secondo me molti di voi conoscono già, ma che lo rimetto in gioco da oggi. Perché? Perché nei conteggi nuovi dell'ultima estrazione questi due numeri in decina sono veramente forti su un'unica ruota. Non appena vi dirò questo Ambo qualcuno di voi dirà, cavolo ma l'ho giocato fino a settimana scorsa, era la previsione? Eh sì, era una previsione che ormai ha sorpassato i nove colpi di gioco, ma questo Ambo di quella famosa terzina su doppia ruota, questo Ambo è forte adesso su un'unica ruota. Di quale Ambo sto parlando? Provate a indovinare. Beh certo, di numeri ne abbiamo giocati tanti in questo periodo, ma questo Ambo ha una percentuale in più. Vi dico solamente che è un Ambo in decina come vi ho anticipato prima, un'unica ruota, la ruota mia, cioè Milano, da dove sto trasmettendo adesso questo video. Ragazzi, è l'ora di dirvi qual è l'Ambo. Milano, 12-18. Questo Ambo molti adesso diranno, eh sì, l'ho giocato in terzina fino a qualche estrazione fa, certo. Però essendo che ha sorpassato i nove colpi di gioco, questa previsione era Milano-Napoli in terzina col 30, questa previsione si è spaldata. Però, rivedendo i conteggi, io vi dico che questo Ambo solo su Milano, 12-18, adesso ha riacquistato valore. Anche perché l'estrazione di giovedì sera, e alcune di voi capiranno da una tabella spia, proprio dei numeri portano questi due numeri. E qualcuno avrà capito quali sono. Quindi, io vi confermo, Milano, 12-18. Per chi volesse tentare le posizioni di entrambi i numeri, io vi dico che a Milano il 12 è buono in seconda e terza posizione. E il 18 in terza e quarta posizione. Ma l'Ambo e Ambetto è Milano, 12-18. Nazionale tutto e facoltativo, mi raccomando. Detto ciò ragazzi, io sono fermo in macchina, tranquilli, non guido mentre faccio il video. Sono fermo. Io vi saluto, vi mando un'energia positiva e un ottimismo pazzesco, ve la sto trasmettendo come ce l'ho io questa mattina. E mi raccomando, giocate questo Ambo che vi ho dato. Milano, unica ruota. Milano, Ambo in decina, 12-18. Ok? Un bacio a tutti ragazzi! Milano, Ambo in decina, 12-18.